Questo è classico, Porkchop, Shiki 82, e c'è anche Bruce 82, e c'è anche Ray de Will, mamma mia quanto è bella Air, Got, Jeans, Sax e Matti, Sprinacam, fanno bello bucchino, tutte mattina Alex Gabber from Hell, e c'è anche Tatanka, Romix 98, Dario, e c'è anche Filo Il Calippo Mamma mia, c'è anche Guido, e c'è anche Alex, e c'è anche D.R.Fenix, c'è Raff 1991, e tutti i motori addosso, con tutta l'ambrocchiata Mamma mia, where can I see you? Ocala, c'è un bello fratone, Dr. Ravanello, Fronza, Erzobello, Picci, Diego, c'è anche Cortex Salvo Giulia, poi c'è anche Ocala, Eccala, Dr. La Palla e Lulla Buonasera a tutti ragazzi, buonasera, buonasera e benvenuti in questa live Salve, come state? Allora, scusatemi se la sera non riesco a leggere tutti, ma siete tantissimi